Il Cievo, anche se è raggiunto da risultati complicati, è una squadra esperta che si sa stare bene sul campo. Come ho detto, al primo tempo loro non ci facevano giocare bene, poi al secondo siamo migliorati e pian piano è uscito il nostro gioco. Personalmente per te questa è anche un'occasione, perché purtroppo è stato l'infortunio di Adnan, che lo terrà fuori dal campo per un po'. Per te questa è una chance per ritrovare il posto titolare anche in Serie A? Non so, quest'oggi avevi anche qualche emozione particolare di ritornare finalmente in campo dal primo minuto, anche in campionato. La cosa più importante è che ognuno va a Remi nella stessa direzione, poi chi gioca o non gioca questo non è importante. Bisogna lottare tutti quanti per un solo obiettivo. Ecco, Giuseppe, a Napoli avevamo anche un po' scherzato su questi crampi che continuano ad afflitterti, anche quest'oggi purtroppo il problema si è riproposto. Sto migliorando, mancano cinque minuti per finire e poi sono al posto.